L'Alexander Club non lascia ma raddoppia, dopo una chiusura durata circa un mese dovuta anche alle cattive condizioni meteorologiche, come promesso ritorna il locale per eccellenza del sabato notte Campobassano. A movimentare la notte ci penseranno due presenze di eccezione. La sala commerciale ospiterà l'abbenente modella romana Federica Nargi, vincitrice del programma Veline nel 2008, unitamente a Costanza Caracciolo. Tale successo valse a Federica e Costanza una partecipazione a striscia alla notizia durata dal 2008 al 2012 e l'attributo di Veline più longeve del tigi satirico di Antonio Ricci. Nel 2013 Federica Nargi è stata anche testimonial della casa di moda Golden Point per le campagne pubblicitarie della stagione estiva 2013. Il tutto prima di ritornare in tv alla conduzione dello show comico di Italia 1 Colorado Cafè, insieme con Fiammetta Cicogna e Paolo Ruffini. Apprezzatissima nel mondo maschile, la Nargi nota anche per la sua relazione con il cacciatore neo-juventino Alessandro Matri, sarà per la prima volta in assoluto in Molise e oltre ad intrattenersi per quasi due ore con i presenti, farà da madrina alla serata Spring Party. Gli amanti del genere house saranno accontentati con un'altra presenza rilevante nel settore. Si tratta del DJ Antonio Pepe, che ha avuto il privilegio di suonare al Festival dell'Old River Park con alcuni tra i maggiori artisti del panorama tecno-internazionale. Tra questi non possiamo non citare Sven Bat, Joseph Capriati, Dave Clark e Paco Osunia. Insomma, per la notte l'offerta dell'Alexander Club si presenta ricca e davvero interessante. La serata rientra in un piano di eventi attraenti che la struttura ha pianificato da qui fino alla fine del mese di aprile. Proposte all'insegna del divertimento misto alla qualità, questa sarà la miscela giusta per ridare nuova linfa alle notti di un capoluogo che in questo momento storico sta smarrendo alla verve che lo ha caratterizzato in passato. Per questo sabato notte l'Alexander ha curato davvero ogni particolare nel tentativo di offrire un servizio il più possibile completo alla sua clientela. È stato istituito infatti il servizio navetta per chi volesse raggiungere la discoteca dal centro cittadino. Navette pronte a fare la spola dal centro alla zona industriale di Campobasso ogni mezz'ora a partire dalle 23 e 30. Divertimento e sballo sì, ma con un pensiero doveroso rivolto alla salvaguardia della sicurezza stradale. Chiunque fosse interessato alla prenotazione dei tavoli, che è assolutamente gratuita, può contattare il seguente numero di telefono, il 329 65 09 450. Riapertura in grande stile all'Alexander Club, un sabato notte nel quale ci sarà senz'altro da divertirsi. Grazie a tutti!